Buona mattinata amici di Lecco FM, siamo nel cuore di Rancio Alta, in via Quarto, in compagnia di Patrizia Cattaneo e Francesca Arrigoni. Solo noi di questa settimana è stato presentato al sindaco Virginio Brivio e all'assessore alla viabilità Corrado Valsecchi una petizione che è stata sottoscritta da 124 abitanti di queste zone per una problematica che riguarda i rioni da parecchio tempo, dal 2007. Quindi Patrizia ci spieghi un attimino come è nato questo problema e come si è voluto, come siamo arrivati al 2020 ad essere ancora qui in questa situazione problematica. Sì, allora si è voluto, ci sono stati fatti in questo periodo di tempo degli incontri per definire insieme ai responsabili del Comune le possibili soluzioni. Vero che non ce ne sono tantissime, vero che qui è un grosso problema, ma non possiamo continuamente ignorarlo. Cioè in questa maniera noi stiamo semplicemente dicendo che le regole della strada sono queste, quando le trasgredite diamo le multe. Questo non è una soluzione, pensiamo, quindi stiamo chiedendo nuovamente di rincontrarsi e rimettere in discussione per vedere le possibilità che sicuramente a un problema esiste una soluzione. Non credo che un problema sia in assoluto irrisolvibile. Sta diventando un problema invece vivere qua, dove hanno dato l'abitabilità, dove noi cerchiamo di tenere a posto tutte le case pur vecchie e quindi il quartiere continua a vivere, continua a essere abbellito e valorizzato. Non ultima è sempre l'iniziativa annuale della festa di Rancio in Fiore che cerca di far vivere. Teniamo presente anche che qui c'è una montagna, il San Martino, molto usata e trafficata. Quindi tutte queste cose fanno dire perché mettere un abitante contro l'altro perché tu mi hai rubato il parcheggio, perché far uscire delle situazioni di brutte parole, diciamo, tra di noi che uno dice non ne posso più perché l'esasperazione porta anche a quello. Perché mettersi contro le lineelecco o peggio ancora gli autisti o peggio ancora i vigili. Cioè sta nascendo veramente una cosa che è brutta, brutta nel senso della relazione tra persone. Quindi siccome tutti siamo persone, credo che mettendoci a un tavolo possiamo anche discutere e trovare finalmente un accordo. Certo, quindi trovare un compromesso, un andarsi incontro anche da un certo punto di vista che però fino adesso non c'è stato. Tant'è che la settimana scorsa sono state apposte delle nuove strisce appunto per delimitare i parcheggi che hanno ridotto ulteriormente la possibilità di trovare appunto dei posti in cui posizionare le auto. Quindi una situazione che sta diventando veramente insopportabile, tant'è che anche parcheggiando insomma i spazi che non sono appunto delimitati da delle strisce comunque in ogni caso non bastano a soddisfare le necessità del quartiere. Che non è solo per quanto riguarda Rancio Alta ma anche la zona di Malavedo come ci spiega Francesca Arrigoni. Grazie. Esatto. Il problema dei parcheggi poi si espande anche verso Malavedo dove il parcheggio proprio è praticamente impossibile se non qualcuno in piazzetta o sotto l'ultimo condominio dove c'è qualche parcheggio pubblico ma non basta assolutamente a coprire una campienza di densità di popolazione che comunque Malavedo ha. Non ci sono neanche dei punti scarico e carico disponibili quindi via Quarto era una risorsa anche per un altro quartiere indispensabile e quindi il problema si dilata e come un virus si espande sempre di più perché poi andiamo a cercare parcheggi ovunque adesso e quindi poi il problema si espande. con delle multe che come dire non sono proprio di costi bassi insomma anche perché si passa dai 40 agli 80 euro in genere insomma e c'è chi ne ha prese 4 o 5 e quindi insomma facendo i debiti calcoli non sono proprio soldini ecco. Quindi detto questo che cosa possiamo chiedere all'amministrazione comunale? Che cosa si può chiedere per venire incontro anche insomma rispetto a trovare insomma altri spazi per soddisfare queste esigenze? Ma prima di tutto direi che stiamo chiedendo semplicemente di risponderci e darci una data per un incontro dove ragionevolmente ripeto si possa affrontare il problema. Non abbiamo una soluzione in tasca perché come non ce l'hanno loro non ce l'abbiamo noi, men che meno noi che non siamo tecnici. Però io penso che mettendosi ripeto al tavolo la soluzione si trovi. Ci sono degli spazi magari da poter utilizzare e quindi far diventare questi spazi posti auto. C'è la possibilità forse di lasciare dare i bolli alle macchine dei residenti per cui discorario per tutti e invece per noi no? C'è questa possibilità? Non lo so. Ci diano delle risposte? C'è la possibilità di pagare il bollo che noi mettiamo annualmente così come viene fatto in centro e quindi metterle le righe gialle per i residenti? Non lo so. Queste proposte noi le abbiamo già dette, le risposte non ci sono state, ce ne sono altre che magari loro ci suggeriscono. Sta di fatto che noi in tasca le macchine non le possiamo mettere. Quindi aspettiamo una risposta, una replica per lo meno anche da parte dell'amministrazione comunale rispetto a questa problematica che con l'andare avanti degli anni si fa sempre più pesante da sopportare. Grazie. Potrebbe anche essere un'occasione per riqualificare e ridare importanza a questo territorio che nella storia comunque ha avuto la sua grande importanza. Quindi approfittare di questo problema per riqualificare anche un territorio secondo me è una bella cosa che non dovremmo farci scappare. Certo, un territorio che ha tanto da offrire anche a livello paesaggistico perché appunto siamo sotto il San Martino e quindi è una zona molto molto bella di Lecco e che quindi speriamo possa essere ascoltata dall'amministrazione comunale. Grazie a Patrizia, grazie a Francesca. Grazie a tutti.